Avevamo concluso il video precedente dicendo che il manifesto del Partito Comunista analizza la forma sociale borghese come prodotto di un lungo processo storico. Quindi ceto oppresso, sotto il dominio dei signori feudali, insieme di associazioni armate e autonome ai tempi dei comuni, e infine classe dominante. Tanto che Marx ed Engels affermeranno che il potere statale moderno non è che un comitato che amministra gli affari comuni di tutta la classe borghese. Possiamo procedere. La borghesia è stata quindi una grande forza rivoluzionaria, che cambiando i modi della produzione, quindi la struttura, ha di conseguenza cambiato tutti i rapporti sociali e la stessa produzione intellettuale, quindi la sovrastruttura. E qui siamo in perfetto accordo con quanto abbiamo già affermato in precedenza, ovvero che vi è un primato della struttura, sulla sovrastruttura. Citiamo le parole di Marx. La classe borghese ha messo lo sfruttamento aperto, spudorato, diretto e arido, al posto dello sfruttamento mascherato di illusioni religiose e politiche. Ha spogliato della loro aureola tutte le attività che fino ad allora erano venerate e considerate con pio timore. Ha tramutato il medico, il giurista, il prete e il poeta, l'uomo della scienza insalariati ai suoi stipendi. Fine della citazione. La borghesia però, secondo Marx, ha la colpa di voler intensificare al massimo la produzione per ottenere il massimo profitto. Così facendo favorisce però il nascere di crisi di sovrapproduzione che creano disoccupazione, fanno crollare i prezzi e provocano miseria, favorendo moti rivoluzionari. Questo è per Marx il modo in cui storicamente è avvenuto ogni mutamento sociale ed avverrà anche in questo caso. La lotta di classe è quindi il motore della storia. Citiamo Marx I tempi sono evidentemente maturi perché il 22 febbraio 1848 scoppia la rivoluzione a Parigi. Luigi Filippo di Francia è costretto a fuggire a Londra e viene proclamata la Repubblica. La rivoluzione si estende subito a tutta l'Europa e cancella l'assetto politico creato nel 1814 dal congresso di Vienna, anche se in realtà perde slancio quasi immediatamente per via della spaccatura fra le forze liberali, che temevano l'estremismo proletario, e quelle socialiste. Quando scoppiano i moti popolari anche a Bruxelles il governo prussiano arresta ed espelle Marx, che è così costretto a rifugiarsi a Parigi. Alla fine di marzo la rivoluzione si allarga alla Germania e il primo giugno del 48 Marx si trasferisce a Colonia insieme a Engels e alla sua famiglia, dove ipoteca l'eredità paterna per fondare il giornale intitolato la nuova gazzetta renana. Sempre a giugno l'esercito francese comandato dal generale Calignac stronca il movimento operaio parigino facendo di fatto fallire la rivoluzione. Questo evento ha ripercussione in tutta Europa e spinge i liberali, che valutano che per loro è ben più grave il pericolo comunista, a cercare un accordo con l'assolutismo semifeudale. Dalle colonne della gazzetta Marx invita a non pagare le tasse e a rispondere alla violenza con la violenza. Per questo verrà citato in tribunale nella primavera del 49, ma verrà assolto. La nuova gazzetta renana viene però soppressa nel maggio dello stesso anno e Marx farà così il ritorno in Francia, dove il governo gli proibisce di stabilirsi a Parigi e gli offre una sorta di esilio nella regione paludosa del Morby-Han. Deciderà così di emigrare a Londra, dove rimarrà fino alla morte. Periodo questo molto difficile per Marx, che però, come vedremo, non si dà per vinto. A Londra lavora infatti per ricostruire i legami fra gli aderenti della Lega dispersi dopo le sconfitte delle rivoluzioni e nel settembre del 1849 riesce a ricostruire il Comitato Centrale della Lega dei Comunisti. Riesce anche a far rinascere la nuova gazzetta renana, che dal marzo del 1850 esce mensilmente ad Hamburgo sotto la sua direzione. In aprile nasce l'Associazione Universale dei Comunisti Rivoluzionari, il cui obiettivo è, e qui citiamo direttamente, il rovesciamento delle classi privilegiate e la loro sottomissione alla dittatura del proletariato, mantenendo la rivoluzione in permanenza fino alla realizzazione del comunismo, che deve essere l'ultima forma di organizzazione del genere umano. All'interno della Lega dei Comunisti ci sono però ancora divergenze tra quelli che pensano che l'attività rivoluzionaria debba essere ripresa immediatamente e quelli come Marx, che credono invece che la classe proletaria debba prima essere educata alla gestione del potere. Avviene così una scissione nel 1850 e poi il definitivo scioglimento della Lega nel 1852. Questo è ancora un periodo difficile per Marx. Vive in condizioni di estrema povertà in uno dei quartieri più poveri di Londra e addirittura gli muoriono due figli per malnutrizione. Preso atto del fallimento dei moti rivoluzionari europei, Marx riprende lo studio dell'economia politica frequentando quasi giornalmente la biblioteca del British Museum a Londra, raccogliendo una grande quantità di dati che daranno vita agli appunti riuniti sotto il titolo Grundrisse ed un altro scritto chiamato Per la critica dell'economia politica, pubblicato nel 1859. In questi studi teorizza che per una corretta analisi dell'economia politica non bisogna partire da concetti astratti, come facevano gli economisti classici, ma da dati storici precisi su ogni società, per quanto caotici essi possano apparire. Fatta questa prima analisi, si può poi generalizzare, tornando all'astratto, con la creazione di categorie che, applicate alla realtà, la renderanno non più caotica come quella dalla quale si è partiti. Ma si vedrà una totalità di relazioni correttamente individuate. La crisi economica che investe il mondo nel 1857 segna una forte ascesa del movimento operaio, che si dà una struttura internazionale a partire dal 28 settembre del 1864 con la Costituzione dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, di cui fanno parte rappresentanti delle maggiori nazioni europee. Essa sarà però molto frammentata e, ancora, divisa in correnti più o meno estremiste. Nel 1867 viene pubblicato Il Capitale, in cui Marx, allora 49enne, analizza il modo di produzione capitalistico e tenta di spiegare come sia possibile lo sfruttamento dei lavoratori in una società in cui, in teoria, tutti sono liberi e uguali e in cui ogni merce, compresa la forza lavoro, viene venduta secondo il suo valore. Molto bene, questo è tutto. Spero che questo video vi sia utile e che lo abbiate trovato interessante. Come sempre, vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi. Alla prossima!